Come è la mia presenza? Ci debba essere una integrazione vera fra questi territori che si assomigliano in tante parti con degli splendidi panorami, con una capacità di fare, io credo con la piccola industria, le marche in particolare ma credo anche l'Umbria, di fare economia quella vera, quella produttiva. C'è bisogno però di un'integrazione forte fra questi territori perché questi territori credo che solo avendo una forte sinergia riusciranno un po' a superare una situazione del paese in generale attualmente di grande criticità. Dunque la mia presenza è a testimonianza del fatto che sono convinto che ci debba essere una forte interazione fra Marche e Umbria su molte questioni, in primis su quella economica. Dunque la mia presenza!